Benvenuti su Reality Italiano. Massimo Ranieri è da sempre una figura di talento e successo. Tuttavia, dietro le quinte della sua carriera brillante si nasconde una profonda ferita. Questa ferita è stata rivelata da sua figlia in un'intervista sconvolgente. Ma prima? Metti un like al video e iscriviti al nostro canale YouTube per non perdere nessuna delle nostre emozionanti storie. Ecco cosa sta affliggendo Massimo Ranieri. Sua figlia Cristina Calone. Ha apertamene dichiarato in una intervista che sebbene lei abbia voluto con tutte le sue forze essere riconosciuta legalemente dal padre Massimo Ranieri. Oggi, lei non lo ama. Cristina Calone, figlia di Massimo Ranieri, ha deciso di condividere la verità sulla loro relazione complessa. Nel suo recente libro intitolato Riconosciuta, Cristina svela i dettagli dolorosi di un amore non corrisposto. Nonostante l'ammirazione che Cristina nutre per il talento di suo padre, e la stessa confessa di non poter ricambiare quel sentimento. È un dolore che Massimo Ranieri porta nel suo cuore, sapendo che sua figlia non lo ama incondizionatamente. Attraverso le pagine di Riconosciuta, Cristina Calone dipinge un ritratto toccante di una vita segnata dalla mancanza di suo padre Massimo. Rivelando come le rigide regole dell'industria musicale abbiano impedito a Massimo Ranieri di stabilire un legame familiare profondo. Questa privazione si è concretizzata nel fatto che sua madre è stata costretta ad abbandonare la casa in cui aveva dato alla luce Cristina. Solo perché aveva avuto una conversazione con i giornalisti. La lotta per il riconoscimento è stata lunga e dolorosa, ma solo nel 2007 Massimo Ranieri ha finalmente presentato Cristina al pubblico come sua figlia. Ma c'è di più. Il dolore di Massimo Ranieri è ancora più amplificato dal fatto che l'amore di sua figlia è riservato esclusivamente alla sua madre, che purtroppo è scomparsa a causa di una grave malattia. Nonostante le difficoltà, Cristina continua a sognare in grande. Uno dei suoi sogni è partecipare al Festival di Sanremo del 2024, condotto da Amadeus, e duettare con uno dei grandi nomi della musica italiana. Noi auguriamo a Massimo e Cristina di poter ricostruire quel rapporto speciale che c'è tra un padre e sua figlia.